il cavaliere arriverà il città il 19 maggio ancora incerta la location dell'evento mostra d'oltremare o piazza del plebiscito sabato sarà a napoli antonio tayani silvio berlusconi vuole chiudere la convention l'italia del futuro di forza italia in programma il 21 e 22 maggio prossimi a napoli intanto sabato 23 aprile nel capoluogo partenopeo ci sarà il numero 2 azzurro antonio tayani il coordinatore nazionale forzista sarà a mezzogiorno nella sede del coordinamento regionale del partito a corso umberto per la conferenza stampa di presentazione della due giorni silvio berlusconi manca a napoli da quattro anni dal marzo 2018 quando si concesse una passeggiata tra i presepi di san gregorio armeno insieme alla sua ex compagna la napoletana francesca pascale berlusconi molto probabilmente stavolta sarà accompagnato dalla napoletana marta fascina il leader di forza italia tornerà nella città partenopea ed è stata fissata già la data sarà il 19 maggio in città l'evento del grande ritorno sarà presentato sabato in una conferenza stampa nella sede napoletana di forza italia alla presenza del vice presidente di forza italia antonio tayani e del coordinatore regionale domenico de siano ancora incerta la location per il ritorno di berlusconi in città probabile che possa essere scelta la mostra d'oltremare ma si valuta anche piazza del plebiscito